Oggi molti commentatori dovrebbero stare solo zitti, muore Marchionne e per loro è stato il diavolo. E leggere tutte le paginate di giornali, i commenti, i riconoscimenti a Marchionne mi fa davvero orrore. Dov'erano questi commentatori quando Marchionne decise nel 2010 di chiudere Termini Imerese? La fabbrica siciliana per cui vi ricordate, 3.000 persone perdevano il posto di lavoro, l'indotto da 1.000 persone e ci dicevano in realtà sì, abbiamo speso un miliardo e 4 per tenere in piedi quella fabbrica, ma Marchionne proprio in virtù di quegli aiuti pubblici la deve tenere in piedi. Dove erano tutti quelli che oggi piangono Marchionne quando Marchionne decise di uscire nel 2012 dalla Confindustria? Sono tutti come boccia che dicono ah ci siamo sbagliati, abbiamo imparato molto. Io me ne ricordo i toni nei confronti di Marchionne, l'uomo che aveva spostato all'estero la Fiat. Dove sono quelli che al referendum di Mirafiori parlavano di negazione dei diritti? Ve lo ricordate il referendum di Mirafiori in cui si cercava di postare da 40 minuti a 30 minuti, come in tutta Europa, la pausa per gli operai e i commentatori? Com'è che si chiamava Massimo Giannini? Fece sulla Repubblica un pezzo, il patto disuguale tra capitale e lavoro. Dove sono finiti tutti quei critici del referendum di Mirafiori che passò per il 54% solo grazie agli impiegati e Marchionne disse grazie e grazie a quello portò e mantenne in Italia le fabbriche italiane? I grandi giornaloni che criticavano Marchionne. E infine, dove sono quelli ai quali Marchionne disse assumo mille operai a Melfi, mille operai a Melfi con una società interinale e poi li porto a contratto a tempo indeterminato quando passerà il Jobs Act? Questo disse Marchionne, ve lo dico esattamente quando, nel 2015, gennaio 2015. Mille nuove assunzioni che diventeranno a tempo indeterminato col Jobs Act perché col Jobs Act muore l'articolo 18. Ecco, dove sono finiti tutti i critici di Marchionne di quell'epoca? Il Marchionne che oggi piangono e lo stesso Marchionne che grazie al Jobs Act assumeva mille persone, che lasciava la Confindustria, che negava i diritti secondo loro? Io penso che oggi queste persone dovrebbero solo stare zitte. L'unico modo per onorare uno dei più grandi manager che la Fiat ha avuto. Ciao.